Buongiorno compagni, è difficile ovviamente stare sull'ampia traccia che condivido in pieno della relazione di Angelo Summa per cui trovandoci in questa terra di mezzo dico da subito avanzo una brevissima riflessione scegliendo un tratto, un denominatore comune che si può estrapolare dal suo ampio e condivisibile ragionamento di ieri che attiene alla dinamica del conflitto capitale lavoro a partire da questo tratto che Angelo ha declinato come una fase di illiberale comando, fase di comando illiberale che attraversa le nostre democrazie e le diverse latitudini dall'America di Donald Trump alla Russia di Putin fino a Orbán in Ungheria e all'Europa. Dicendo da subito e facendo subito una precisazione che è non già l'idea di comando di per sé illiberale ma agita tra l'altro su questa retorica del sovranismo che ci propinano molte volte i nostri ministri tra tutti Matteo Salvini ma illiberale perché c'è un superamento delle categorie politiche del Novecento, tutte e due quelle principali, non soltanto quella del socialismo o del welfare state ma anche quella del liberalismo perché se da un lato va in crisi un modello tale per cui c'era lo Stato in grado di aiutare le persone in una situazione di bisogno, dall'altra parte va in crisi quel modello che da Francis Fukuyama in poi ha prospettato un mondo migliore, la fine della storia dopo la caduta del muro di Berlino in cui tutti nella globalizzazione eravamo più felici, tutti stavamo meglio e quindi non c'era più bisogno di agire il conflitto sociale. Vanno in crisi entrambi, il primo per un difetto di risorse economiche in grado di agire la redistribuzione sociale, il secondo per un eccesso di ottimismo tale per cui la cifra dei nostri giorni è quella di un prevalente pessimismo che ci porta alle chiusure, ci porta alle paure del diverso, alla paura del migrante, alla paura di chi bussa alle nostre porte e ci presenta quindi un clima di paura e di insicurezza. E tuttavia io ritengo che da qui fino a gennaio al congresso nazionale vada fatto un ulteriore sforzo, vi racconto solo questo brevissimo aneddoto di qualche giorno fa in un ateneo del mezzogiorno, non dico dove, come e perché, un ragazzo interrogato dice a un certo punto ma il fascismo è di destra o di sinistra? Ecco questo per dire cosa? Per dire che probabilmente anche le nostre stesse categorie sono categorie che se rivolte ad una nuova generazione faticano ad arrivare, faticano ad arrivare, molte volte le differenze non sono così nette come noi le percepiamo e probabilmente se noi pensiamo che il crinale sia esattamente in questa dinamica tra buoni e cattivi o fascismo antifascismo secondo me per un pezzo siamo fuoristrada intanto perché i parallelismi diciamo storici presentano molte asimmetrie e sarebbe lungo ripercorrerli, poi perché si palesa una sostituzione in pieno di un nuovo sistema di valori con il quale noi abbiamo a che fare in cui da un lato c'è chi in questi anni, in quest'ultimo ventennio ha inteso l'integrazione europea, le politiche della globalizzazione, il governo di questi processi dall'altra parte in questo blocco di governo lega 5 stelle c'è chi a questo sistema di valori si è opposto e si oppone. Allora io dunque che la capacità deve essere una capacità di andare un po' più a fondo nelle questioni a partire da diciamo che lo utilizzo strumentalmente ma non è così diciamo eterodosso come parallelo a partire da quello che nel 1936 fece il partito comunista di Togliatti quando faceva una differenza tra il manifesto di Sansepolcro del 1919 e il fascismo realizzato dicendo che bisognava a un certo punto intendere un appello ai cosiddetti fratelli in camicia nera per fare cosa? Per provare a sganciarli da quello che era un blocco di potere che ad oggi per quanto mi riguarda ancora non è ai tempi nostri un blocco sociale omogeneo e unitario. Però questa azione bisogna sforzarsi di farla. Bisogna insediare un cuneo in questo blocco di comando avendo la capacità di riperimetrare l'azione sociale, di riperimetrare le alleanze sociali sulla base delle quali spostare verso diciamo il lato occidentale delle cose un'azione politico sindacale. A partire da cosa? A partire da una messa in discussione di quel non modello che ci presenta il ministro Salvini sui migranti. Lo dicevamo ieri in una conversazione privata con il mio nuovo compagno amico di stanza Michele Petraroia se l'altro giorno ci danno dei dati in cui 240.000 italiani si iscrivono nel 2017 all'Aire e soltanto 120.000 sono i nuovi arrivi dal punto di vista della immigrazione probabilmente capiamo che siamo di fronte ad una nazione che sta cambiando pelle e noi con questo cambiamento dobbiamo fare i conti se siamo una forza matura. A partire dalla flat tax provando a spiegare agli autonomi che quel provvedimento della soglia dei 65.000 euro non li aiuta a crescere ma gli insegna ad evadere a ribassare le fatture e a restare piccoli in un mare in cui i più grossi ti fagocitano e ti mangiano. A partire dal lavoro come ci invitava a fare ieri Angelo Summa nella sua relazione in cui ricostruendo dopo il fallimile crack che c'è stato diciamo con il Jobs Act bisogna anche qui provare a rideclinare un'azione concertata sul tema del reddito di cittadinanza per una riqualificazione intanto dei centri per l'impiego e di tutte le politiche attive sul lavoro. Poi verso una conversione in quelle mansioni sociali che sono esattamente quella matrice mancante per far sì che il tessuto connettivo di una nazione scollasciata quale quella che abbiamo di fronte in questi giorni provi a ritrovare un minimo di coesione. E infine io direi anche per trovare un sistema di sponda Angelo tra il reddito di cittadinanza non so leggevo un giornale locale in queste settimane non so quanti lucani 25, 28 mila, 26 mila avrebbero accesso a queste ipotetiche misure un sistema di sponda un meccanismo di sponda tra reddito di cittadinanza e reddito di inserimento esattamente per provare a riqualificare quelle platee intanto verso una migliore organizzazione e manutenzione del territorio del nostro territorio e poi anche per provare nello stesso tempo a riqualificare un pezzo nel mondo del lavoro rivolto appunto alle politiche sociali, al sociale, al socio assistenziale. E infine dico dunque bene anche la questione relativa alla riduzione dell'orario di lavoro qui aggiungo una riflessione veramente per flash perché se da un lato c'è questa prospettiva dall'altro ci propongono la quota 100 anche qui è bene che bisogna dire a questi che governano che la quota 100 la fai se c'è un sistema di programmazione, se sai che se ne escono 10 dalla pubblica amministrazione sei in grado di ricollocare 5 persone, 5 giovani talenti in grado di riposizionare verso servizi avanzati alla persona, alle imprese e alla pubblica amministrazione per l'appunto quella mansione. E allora vado alle conclusioni, se devo trovare una cifra diciamo alle cose che ci invitava a fare e a riflettere Angelo nella sua articolata complessa e bella relazione, io dico e cito anche il titolo del congresso rievoluzione però dico che questa è la fase in cui bisogna avere un po' di pazienza. La cifra della rivoluzione è un po' l'irruenza, la cifra di un'evoluzione potrebbe essere Paolo la pazienza, allargando un po' le braccia, respirando un po' con le spalle e provando a dire come si dice diciamo a chi è vittima di un accidente o di un momento di difficoltà ci vuole pazienza, ci vuole pazienza per ricostruire un tessuto connettivo, ci vuole pazienza per ricostruire un perimetro delle alleanze, ci vuole pazienza anche per ridisegnare come ci diceva poco fa Franco Tavella un ruolo di questa regione basilicata nel mezzogiorno provando a capire che questa può essere una regione servente nel concerto delle regioni del mezzogiorno, servente rispetto ad una dinamica di infrastrutturazione viaria, servente rispetto ad una dinamica di ridisegno della logistica in grado di collocare la basilicata al punto in cui è nel cuore del mezzogiorno, dentro una strategia di rilancio del mezzogiorno, dentro una strategia di rilancio dell'impresa e della logistica in chiave mediterranea. E allora se la cifra è chiudo davvero è la pazienza per una rievoluzione delle nostre attività e della basilicata delle persone, chiudo con una battuta che mi veniva perché poi me l'ha ricordata guardando Anna Russelli, il compagno Vladimir Putin diceva parlando della rivoluzione d'ottobre, diceva irresponsabile, chi prova nostalgia per la rivoluzione d'ottobre è in fondo una persona irresponsabile, ma chi non prova un minimo sentimento umano per quei fatti e per quella rivoluzione è una persona senza cuore. Alla stessa stregua io direi che nei confronti di una rievoluzione noi dobbiamo provare quella pazienza e dobbiamo ritrovare il cuore delle persone della basilicata per rilanciare l'attività del sindacato e per svolgere un buon congresso che vi auguro ovviamente buon congresso a tutti, viva la CGL e viva la Basilicata.